Direi che oggi la squadra l'ha fatto con organizzazione di gioco, mentalità, spirito e intensità giusta. Oggi avevo detto ai ragazzi che volevo, ma non perché, dare una continuità e soprattutto andare a migliorare alcune situazioni, alcune cosine sulle quali stiamo lavorando in maniera un po' più specifica. Sapevamo che veniamo da un periodo in cui stiamo recuperando alcuni giocatori, dobbiamo crescere sotto certi altri aspetti, però dobbiamo mantenere sempre questa organizzazione, questa umiltà e disponibilità nell'andare a lavorare e ricercare sempre continui miglioramenti. Se facciamo questo allora possiamo andare attraverso questi tipi di prestazioni a fare risultati. La squadra non ha mai rinunciato a giocare, ha giocato al calcio attraverso le situazioni che si sono preparate, l'ha fatto bene e dovevamo essere forse in qualche circostanza un attimino più precisi nell'ultimo passaggio, nella conclusione finale, però sono cose che ci andremo a lavorare. Grazie per la visione!